Uh bello! Capirci un tubo! Questo sta venendo veramente, stanno uscendo uno dietro l'altro, tutti i miei preferiti. Poi mancano solo i cubi da mettere in fila per salire e andare dall'altra parte. No perché io li odio. Quindi secondo me non sono più usciti, li hanno tolti perché l'hanno ascoltata. Eh meno male perché erano veramente un dito interposto, posso dire. Lei dov'è? Ho preso un altro per colpa sua, è colpa di Lara, sappiatelo. Mi ha lasciato dietro. Via, via, via! No! Vai Minzino, mamma mia nel tubo rosa! Non ce la posso fare! Stanno a uscire bolle! No, no! Che crudeltà! Tutti qua sono! Tutti qua sono! Via, fatemi passare! Fatemi passare, sono rimasta l'ultimo! L'ultimo fagiolo! Vai! Mamma mia, tutti i tubi rosa sto a beccando! Ma che è? Forza, forza! Vai! Insimuli! Forza, 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 forza! Che culo, che culo smodato, smodato proprio! No! No, ma come sono cadute in questo modo? Orribile! Via! Via! Ok, aspetta! Ottimo, ottimo! Dai, 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 dai! Non mi spingere, no! Ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare! No! Se passo da qua mi becco tutti i balloncini, ma ci prova! No, era meglio che non ci provava! Vediamo! No! No! Eravamo più o meno nello stesso punto! Non ce l'abbiamo fatta! Mannaggia! Però ce la siamo, eh, giocata bene! Sì!